In collaborazione con Aereoporto Internazionale di Napoli Carpisa Yamamai Una produzione VG Channel Non trovate che io abbia un sorriso smagliante? Quanto tempo è trascorso da quando i nostri nonni avevano una dentiera, magari un po' più piccola di questa, e la sera la mettevano nel bicchiere, se non sbaglio con un po' di bicarbonato. Davvero tantissimo tempo. Oggi l'implantologia ci consente di non avere la dentiera e di avere ugualmente un sorriso smagliante. Benvenuti ad una nuova puntata di Salute. Oggi a Salute l'implantologia dentaria. Ed eccomi in compagnia del dottor Giovanni Sansone, medico dentista, chirurgo implantologo, e siamo nel centro di eccellenza che c'è a Torre del Greco, Tech Implant. Già dal nome capiamo, dottor Sansone, che in questo centro effettivamente si è andati molto in là rispetto alle dentiere dei nonni di cui parlavo scherzosamente in apertura. Sì, infatti, effettivamente oggi l'implantologia ha raggiunto dei livelli molto avanzati e dal semplice sistema per ancorare le prodisi alla chirurgia guidata. Quindi diciamo che effettivamente la massima sicurezza è data oggi dall'implantologia. Ecco, diciamo però ai nostri telespettatori esattamente che cos'è l'implantologia, ancora prima di spiegare come si fa? Dunque, l'implantologia è perché molti confondono l'impianto con la protesi. Allora, l'impianto dentale non è altro che una radice artificiale che viene posta al posto, diciamo, del dente mancante e quindi sostituisce la vecchia radice del dente. Questa ovviamente è in titanio, il titanio è l'unico materiale biocompatibile con l'osso e quindi si integra con la parte ossea formando tutt'uno con la struttura ossea. Per cui questo consente poi di sovrapporre una protesi fissa, un ponte, una protesi ammovibile, tutto ciò che si desidera poi a secondo della pianificazione del lavoro, dell'intervento. Perché l'impianto è migliore rispetto ai vecchi ponti o alle vecchie... Ovviamente, diciamo, l'impianto è migliore perché sostituisce solo il singolo dente e quindi non intacca le altre strutture dentarie adiacenti come, ahimè, purtroppo oggi ancora c'è chi fa il vecchio ponte quindi praticamente vengono limati i due denti adiacenti che fungono da pilastri per ancorare il dente mancante. L'impianto, nel momento in cui si integra con l'osso, quindi come ho detto prima, diventa parte integrante per cui fa parte dell'osso. Allora, se viene posta una protesi sbilanciata che comunque non rispetta dei canoni tecnici e meccanici ovviamente a lungo andare come va via un dente può andare via anche l'impianto. Però lei lo ha accennato all'inizio della nostra conversazione che adesso si è andati anche un po' più in là in quanto a tecniche sofisticate e forse questo aiuta anche a fare in modo che la mano del chirurgo vada nel verso giusto. Certo, certo. Infatti abbiamo oggi a disposizione la chirurgia computer guidata che è il sistema per eccellenza anche per i neofiti che comunque è un sistema che attraverso il file Icom che produce la TAC 3D viene lavorato da un software dedicato e quindi noi andiamo a posizionare l'impianto nel posto giusto dove abbiamo maggiore osso abbiamo qualità di osso migliore eccetera per cui questo poi genera un altro file che va in laboratorio e viene prodotta una mascherina diciamo di questo tipo che il chirurgo può porre in bocca e ha dei fori guidati che praticamente vengono automaticamente è come se fosse una passeggiata perché ha uno stop e quindi è tutto programmato. Vabbè, insomma una passeggiata adesso lei questo è un centro di eccellenza che c'è vicino Napoli a Torre del Greco e quindi insomma non la facciamo così semplice. Un'altra considerazione c'è un'età limite sia in basso che in alto che sia controindicativa rispetto a questo tipo di impianto? Ovviamente bisogna raggiungere un'età in cui l'osso è completamente formato questa è la prima cosa e poi l'età limite diciamo in effetti non c'è perché sta nello stato di salute del paziente quindi se il paziente anche a 70-80 anni ha uno stato di salute diciamo che consente di fare un intervento di implantologia che ben venga Un'altra domandina già immagino tutte le nonne che ci stanno guardando e i nonni che hanno sorriso quando io gli ho ricordato che la dentiera la sera si mette nell'acqua per chi ha già una protesi vecchio stampo insomma immagino che non si possa risolvere questo problema con un impianto o forse sì? Certamente si può risolvere perché ovviamente ci sono dei sistemi più semplici che anche fanno parte della sfera implantologica tipo gli impianti monofasici che vengono posti utilizzando la protesi stessa del paziente quindi con questo sistema la protesi viene praticamente ancorata e questa è una cosa semplicissima che si fa in un'ora in studio quindi il paziente torna a casa a carico immediato e può masticare direttamente da subito L'implantologia si può fare su 1, 2, 3 o anche tutti e 32 i denti? Generalmente vengono messi un numero di impianti adeguati che massimo saranno 10-11 impianti in modo che perché ovviamente il concetto di mettere tutti i denti o ogni impianto per un dente non si fa più perché ovviamente oggi già con 6-8 impianti si può avere una dentatura completa Noi siamo davvero in chiusura l'ultimo flash dedichiamolo alla prevenzione perché noi abbiamo parlato di impianti di dentiere che devono sparire dalle nostre bocche ma che comunque implicano che non si sia avuto abbastanza cura forse dei propri denti e che quindi i propri denti siano o caduti o in condizioni da essere sostituiti Dunque decisamente sì la prevenzione è la cosa che oggi ci aiuta a non perdere i denti ma più che la prevenzione della carie io darei più risalto alla prevenzione delle malattie parodontali che sono quelle che ovviamente in maniera silenziosa danniggiano tutta l'arca dentale tutti i denti Compromettendo quindi il nostro sorriso Esatto, compromettono tutto perché lei non se ne accorge ma praticamente il dente lentamente perde di attacco e quindi arriva alla mobilità e cadrà Bene, dottor Sanzoni io la ringrazio per il suo tempo ci sono pazienti che l'attendono ringraziamo anche tutti i collaboratori di questo splendido centro che c'è a Torre del Greco Tech Implant e ci vedremo presto voi potrete rivedere questa intervista anche online su www.vgchannel.com Alla prossima